è la prima arena gran bric si è radunata qui tutta la regione delle colline credo di aver visto addirittura shadow z in realtà parker shadow z aveva comunicato a tutti che era impegnato con la giuria magari l'hanno cacciato perché infastidiva il testimone e forse anche tutti gli altri vediamo invece chi c'è davvero i nostri avversari preferiti sarà se lì trafficona a vincere rasti pepita riuscirà ad arrivare a loro chip di plano chiamerà la sua mammina vicky lasciamo che sia la gara a dirlo aspetta mi arrivo subito era proprio necessario accelera vincendo unito che ripotenziamenti e la dottoressa è prima guardati le spalle diventiti a perdere diventiti a perdere sei in testa nella testa oh bello ho il numero uno proprio così inizio numero uno dinamite ho studiato tanto per ancora un giro sei in vantaggio sei in testa per adesso arriva la stella del futuro prima posizione ehi mamma bambina guardami mi sta guidando azzizzanti 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 Oh, oh! Ah, che te mi pare, Parker? Una vittoria inaspettata? Grazie per la domanda! Mi pare bello! Non ringraziarmi! Troppo tardi! L'ho già fatto! Siamo divertenti! Quella matricola è una spina nel fianco! Probabilmente è riuscita a imbrogliare! Proprio come noi! Esatto! Ok, tizio numero due, tu sei il prossimo! Sarà uno scherzo! Vai velocissimo! Non schiantarti e non perdere come tizia numero uno! Capito? Jeff! Chiedo scusa! Cosa? Mi chiamo Jeff! Oh, sì, certo, certo! Siamo tutte persone speciali qui e tutti quanti dovremmo esigere lo stesso rispetto! Per me non siete solo dei numeri seriali! Basati unicamente sull'ordine in cui vi ho assunto! Quindi, d'ora in avanti, vedrò di impegnarmi al massimo! Per ricordarmi che tu ti chiami... Nome? T-t-tizia numero due? Bello! Mi piace! Tizia numero due! Vedi di non perdere! Vedi di non perdere! Congratulazioni! Sono la rappresentante locale della Federazione Gare di Mattonia e vorrei premiarti con la tua prima medaglia dell'Arena Grand Brick! Vincine altre due e ti qualificherai per il Gran Premio Astro Coppa! C'è ancora della strada da fare, ma so che andrai alla grande! Non so chi ti credi di essere, ma questa è la mia gara! Non puoi venire qui senza un briciolo di esperienza e battermi! Chi ti ha mandato? Voglio un nome! È stato incredibile! Quando hai fatto quel... E tutti hanno fatto... E poi hai dirapato facendo... Dovevi sentire la folla quando eri in testa! Wow, ho visto che roba! Ottima notizia! Hai ottenuto abbastanza XP per passare da pilota di classe C a pilota di classe B! D'ora in poi le gare saranno più difficili, ma tu sarai più veloce! E nel tuo assetto ci sarà... ...la spazio per altri potenziamenti! Complimenti! Hai sbloccato lo spaccamattoni! Ora puoi trasformarti in una palla di distruzione di massa e farti largo tra gli avversari! Devi solo riempire la barra del turbo, poi tieni premuto e... BAM! Spacchi tutto! Goditi il giro d'onore, scheggia! E quando hai fatto, incontriamoci ai turbo campi! È giunta l'ora di una bella rivincita! Voglio vedere di persona come te la cavi in pista! E stavolta non guiderò un carretto da gol! L'allievo incontra di nuovo il suo maestro sul campo di battaglia, ma stavolta il maestro non si conterrà! L'allievo sopravvivrà! Oppure il maestro verrà sconfitto dal suo stesso allievo! È uno scontro classico per alcuni, addirittura un cliché! Ma non mi stanca mai! Io e Stad abbiamo guardato un sacco di film di Kung Fu nel garage! Ne avresti mai visto? Ma non mi stanca mai visto? Grazie a tutti.